Non sai disegnare ti fa anche un po' schifo? Allora 10 minuti e neanche la matita serve Ho letteralmente 3 pennellate e ho fatto un pappavero Un po' di nero al centro, delicato Che è sì il fiore dei partigiani ma anche dell'eroina Qualche fogliolina a babbo, basta un verde vomito a caso hai fatto E due bacchi, sì, ci vanno perché hanno senso A sto punto forse è meglio disegnarli che regalarli i fiori E comunque avete fatto un disegno facile e carino